Ben trovati nell'angolo dello sport. Intanto i doverosi complimenti e felicitazioni alle ragazze e ai dirigenti della Original Marines che hanno conquistato la serie A1 di pallanuoto. È stato un grosso successo, un grande esploiato delle ragazze pescaresi. Poi parliamo dei movimenti di mercato. Tutto verte adesso sul capire i due movimenti di Berre e di Lapadula. Sul Lapadula è stato scritto tanto, tante chiose, tante riflessioni, però resta sempre il dubbio che probabilmente non è stato fatto il passo migliore per Lapadula perché sicuramente dato il valore effettivo del ragazzo, data la povertà di veri centravanti in Italia, probabilmente, dico probabilmente il Pescara avrebbe potuto avere qualcosa di più dalla Lapadula. Comunque è stato fatto, passaggio al Milan, il ragazzo è contento, lui voleva il Milan, 10 milioni poi non sono poca cosa, quindi in definitiva va bene così, anche se questo punto interrogativo resta. Un altro punto interrogativo resta su Berre. Berre era in prestito con riscatto a Pescara, riscatto per 4 milioni di euro, il contro riscatto da parte dell'Udinese per poche centinaia di migliaia di euro. Adesso che è successo? Che il Pescara ha fatto valere il riscatto perché non poteva fare diversamente, attendendo probabilmente il contro riscatto da parte dell'Udinese, alla quale Udinese poi eventualmente chiede in seconda battuta Berre in prestito per la stagione prossima della Serie A. Invece che è successo? Che il Pescara ha riscattato per 4 milioni di Berre e l'Udinese invece no, non ha fatto valere il contro riscatto. Allora è stata una furbata dell'Udinese? È stato un grosso impegno da parte di Sebastiani di assicurarsi questo ragazzo che sicuramente nel prossimo anno potrebbe valere di più? Beh, solo il tempo potrà darci la risposta. Resta il fatto che oggi Berre è un giocatore che è costato al Pescara la bellezza di 4 milioni di euro. Questo è un dato di fatto. E visto che stiamo facendo i nomi, se avete la pazienza, vi sciorino una serie di nomi. Ad oggi noi abbiamo Fiorillo riscattato dalla Juventus, Aldegani, Areste, Campagnaro, Zuparic, Coda, Fornasie, Vitturini per Rotta. Questi sono i nostri. Zampano, Memusciai, Berre di cui vi ho parlato, Benalì che è tornato dal Palermo per un milione, Selasi, Bruno, Brugman, anche lui tornato per fine prestito dal Palermo, Caprari, Ceravolo che è preso alla Pernana a parametro zero, Cocco, Mirrita. Poi sono rientrati dai prestiti un sacco di ragazzi. Pigliacelli dal Vercelli, Savelloni dall'Aquila, Calore dal San Nicolò, Parente dal Francavilla, D'Antonio di Nicola dal Lanciano, Sanni dall'Aquila, Altobelli e così via. Adesso sono tanti, insomma i ragazzi starei veramente a fare un lungo elenco. Oggi intanto si dà per certo che l'arrivo, nel momento in cui vi parlo, no, però sarà arrivato Cristanti. Quali sono state le cessioni del Pescara? Allora abbiamo ceduto Mazzotta al Cesena per fine prestito, Diamutene svincolato, Crescenzi alla Roma per fine prestito, Mandragora alla Juve per fine prestito, anche qui si aspetta di Mandragora di riaverlo in prestito, Torreira alla Sampdoria per fine prestito, Cappelluzzo al Verona per fine prestito, La Padula come ho detto lo abbiamo ceduto al Milan, Verde è tornato alla Roma per fine prestito, Pasquato alla Juve per fine prestito, e a Costa al Boccai Onors per fine prestito. Questa è la situazione dei giocatori, diciamo che è tutto in itineria, insomma qui io non sento altro in ogni luogo dove mi fermo, che mi chiedono, mi propongono e mi dicono, insomma sono tutti diventati tecnici del mercato e tutti fanno nome, io dico, viva Dio, lasciamo lavorare la società, quando ci dirà questo l'ho preso, questo l'ho ceduto, ne parliamo e vedremo se ha fatto o non ha fatto un buon affare. Del resto, la cosa più importante oggi come oggi, credo che sia il rapporto con i tifosi, tra il 5 e il 9 di luglio, quindi sta per arrivare la scadenza, ci sarà la presentazione della campagna abbonamenti, non è una cosa semplice, è una cosa molto delicata, perché ci farà capire la mentalità della società attuale, ci farà capire i rapporti che si vogliono instaurare con il pubblico e soprattutto quanto rispetto sapranno dimostrare per i fedelissimi. Bene tutto per questa edizione, un affettuoso abbraccio a voi tutti da Gianni Lussoso come sempre, un ringraziamento all'amico e collega Leo Di Blasio, regista della puntata. a risentirci alle prossime edizioni di TVQ Sport.